Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video tutorial andremo a realizzare insieme un centrino quadrato fatto all'uncinetto. Per questo progetto utilizzerò un cotone e un uncinetto adatto al cotone utilizzato. Possiamo passare al tutorial. Avvieremo un anello magico e avviamo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, più 2 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, rientro all'interno dell'anello magico e lavoro una maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, rientro e lavoro la terza maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, rientro e lavoro la quarta maglia alta. 2 catenelle, rientro e lavoro la quinta maglia alta. Procedo in questo modo, lavorando 8 maglie alte con la separazione di 2 catenelle. Una volta lavorate le 8 maglie alte con la separazione di 2 catenelle, lavoro le ultime 2 catenelle, stringo l'anellino, quindi l'anello magico, e mi chiudo nella terza catenella con un punto bassissimo. In questo modo. Abbiamo terminato il nostro primo giro. Fatto questo, lavoro 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Rientro nello spazio di 2 catenelle e lì vado a lavorare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, per avere un totale di 4 maglie alte. Fatto questo, lavoro una catenella di separazione, rientro nello spazio di 2 catenelle, quindi salto la maglia alta, entro nello spazio di 2 catenelle e lì vado a lavorare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Di nuovo una catenella di separazione, salto la maglia alta, entro nello spazio di 2 catenelle e vado a lavorare 4 maglie alte, 2, 3 e 4. Di nuovo una catenella di separazione, salto la maglia alta e nello spazio di 2 catenelle rientro e vado a lavorare 4 maglie alte, 3 e 4. Quindi procedo in questo modo fino a termine del giro. Terminato il giro, lavoro l'ultima catenella di separazione e mi chiudo nella terza catenella con un punto bassissimo. Arrivato a questo punto, ho terminato il secondo giro. Avvio il prossimo giro lavorando 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Nello stesso punto rientro e vado a lavorare la seconda maglia alta. In questo modo abbiamo lavorato un aumento. Entro nella maglia successiva, lavoro una maglia alta. Rientro nello stesso punto, lavoro la seconda maglia alta, quindi abbiamo lavorato l'aumento. Entro nella maglia successiva e lavoro altre 2 maglie alte. Quindi, nel giro precedente avevamo 4 maglie alte. In questo giro abbiamo 6 maglie alte. Lavoriamo una catenella di separazione, rientro nella maglia alta successiva e vado a lavorare 2 maglie alte. Nella maglia successiva 2 maglie alte. E nella maglia successiva 2 maglie alte. Lavoro una catenella di separazione. Salto la catenella di separazione, entro nella maglia successiva e vado a lavorare di nuovo 2 maglie alte. Nella maglia successiva 2 maglie alte. E nella maglia successiva 2 maglie alte. 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 In questo modo, una catenella di separazione, salto l'ultima maglia alta, salto la catenella e entro nella prossima maglia e vado a lavorare 2 maglie alte. Quindi, dobbiamo procedere in questo modo fino al termine del giro. Una volta terminato il giro, lavoriamo una catenella e come sempre ci chiudiamo nella terza catenella con un punto bassissimo. In questo modo abbiamo terminato il terzo giro. Ora lavoriamo il prossimo giro. In questo modo avviamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Più 2 di separazione, rientro nello stesso punto e vado a lavorare una maglia alta. Quindi abbiamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Lavoro 2 catenelle di separazione. E lavoriamo in questo modo. Filo sull'uncinetto. entro nella maglia successiva lavoro una maglia alta chiusa a metà filo sull'uncinetto rientro nella maglia successiva lavoro una maglia alta chiusa a metà filo sull'uncinetto maglia successiva una maglia alta chiusa a metà filo sull'uncinetto maglia successiva una maglia alta chiusa a metà filo sull'uncinetto rientro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta chiusa a metà arrivato a questo punto ripesco il filo sull'uncinetto in questo modo e chiudo tutto con una maglia bassissima lavoro 2 catenelle entro nello spazio di una catenella qui e lavoro una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto in questo modo lavoro di nuovo 2 catenelle e rifaccio richiudo di nuovo tutte le maglie insieme quindi entro nella prima maglia e lavoro una maglia alta chiusa a metà filo sull'uncinetto prossima maglia la chiudo a metà filo sull'uncinetto prossima maglia la chiudo a metà filo sull'uncinetto prossima maglia la chiudo a metà filo sull'uncinetto prossima maglia chiudo solo i primi due filo sull'uncinetto prossima maglia chiudo solo i primi due o 2 4 6 7 asole sull'uncinetto tutto con un punto bassissimo lavoro 2 catenelle che sono di separazione mi ritrovo nello spazio di una catenella e li lavoro una maglia alta 3 catenelle una maglia alta in questo modo di nuovo 2 catenelle e richiudo di nuovo le sei maglie insieme quindi entro nella prima chiudo solo le prime due sono le prime due prossima maglia sulle primi due prossima maglia solo le prime due asole prossima maglia solo le prime due asole prossima maglia solo le prime due asole così poi chiudo tutto insieme lavoro le due catenelle entro nello spazio di una catenella e lì lavoro una maglia alta 3 catenelle di separazione e una maglia alta questo è il lavoro da fare fino al termine del giro vi rifaccio vedere per l'ultima volta quindi lavoro 2 catenelle di separazione mi ritrovo le 6 maglie alte quindi noi cosa facciamo andiamo a lavorare le sei maglie alte chiuse a metà in questo modo fatto questo chiudo tutto insieme lavoro le due catenelle entro nello spazio di una catenella lì lavoro una maglia alta 3 catenelle di separazione e una maglia alta lavoro di nuovo 2 catenelle e così procedo lavorando fino al termine del giro una volta terminato il giro lavoro le ultime due catenelle e mi chiudo nella terza catenella con un punto bassissimo in questo modo abbiamo terminato il giro procediamo lavorando il prossimo giro in questo modo avviamo 3 catenelle che sulla nostra prima maglia alta sulla maglia alta successiva quindi saltiamo le due catenelle lavoro entro sulla maglia alta successiva e lavoro una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto lavoro 2 catenelle che sono di separazione e vado a lavorare qui nello spazio di 3 catenelle e li lavoro 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte lavoro 2 catenelle di separazione rientro nello stesso punto e vado a lavorare altre cinque maglie alte quindi due 3 4 e 5 in questo modo abbiamo lavorato il nostro primo angolo fatto questo lavoro di nuovo 2 catenelle salto le maglie alte chiuse insieme entro nello spazio di appunto salto le maglie alte chiuse insieme e lavoro una maglia alta sulla maglia alta in questo modo poi lavoro 2 catenelle nello stesso punto una maglia alta salto le catenelle di separazione entro qui nella prossima maglia alta e lavoro di nuovo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta in questo modo lavoro di nuovo 2 catenelle entro nello spazio di 3 maglia di 3 catenelle qui e vado a lavorare di nuovo l'angolo quindi il secondo angolo e lavoro 5 maglie alte quindi 2 3 4 e 5 lavoro 2 catenelle rientro e lavoro altre 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 in questo modo abbiamo lavorato il secondo angolo 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 ora lavoro 2 catenelle entro nella maglia alta e lavoro una maglia alta 2 catenelle una maglia alta prossima maglia alta lavoro una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta fatto questo lavoro di nuovo 2 catenelle di nuovo 2 catenelle salto le maglie alte chiuse insieme entro direttamente nello spazio di 3 catenelle e li vado a lavorare il terzo angolo e lavoro di nuovo 5 maglie alta quindi 3 4 e 5 2 catenelle rientro 5 maglie alte 1 1 2 3 4 e 5 lavoro 2 catenelle entro nella maglia alta 2 catenelle 1 maglia alta salto le 3 catenelle entro nella maglia alta singola e lavoro 1 maglia alta 2 catenelle 1 maglia alta lavoro di nuovo le 2 catenelle di separazione salto le maglia alta e lì 4 catenelle e lì vado a lavorare il gruppetto di 5 maglie alte quindi 3 4 e 5 2 catenelle rientro nello stesso punto e vado a lavorare altre 5 maglie alte quindi 2 3 4 e 5 maglie alte lavoro 2 catenelle e mi ritrovo qui all'inizio del giro quindi entro nello spazio qui dove abbiamo lavorato le tre catenelle che sono la prima maglia alta quindi rientro lavoro una maglia alta le due catenelle di separazione e dentro nella terza catenella e mi chiudo con una maglia bassissima in questo modo abbiamo terminato il giro e abbiamo formato il quadrato ecco qui ora lavoriamo in questo modo mi ritrovo qui in questo punto e li lavoro come sempre 3 catenelle che sulla nostra prima maglia alta e questo punto vi lo terminiamo al termine del giro quindi andiamo avanti lavorando 3 catenelle che sulla nostra prima maglia alta 2 di separazione e rientro nello stesso punto e vado a lavorare una maglia alta fatto questo salto le catenelle di separazione quindi le due catenelle di separazione e vado a lavorare nella prossima maglia alta e e lavoro una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta fatto questo lavoro 2 catenelle mi ritrovo qui nello spazio dove abbiamo lavorato le cinque maglie alte e lì vado a lavorare cinque maglie alte chiuse a metà quindi entro nella prima maglia e chiudo solo i primi due filo filo sull'uncinetto rientro nella seconda e chiudo solo i primi due così per tutte le cinque maglie alte fatto questo chiudo tutto insieme in questo modo fatto questo lavoro lavoro 2 catenelle 1 e 2 e dentro nello spazio di 2 catenelle e li vado a lavorare cinque maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 ecco qui e 5 maglie alte fatto questo lavoro di nuovo 2 catenelle e mi ritrovo di nuovo le cinque maglie alte e quindi vado a lavorare 5 maglie alte chiuse insieme quindi entro nella prima chiudo solo metà nella seconda chiudo solo metà così per le cinque maglie alte in questo modo fatto questo chiudo tutto insieme poi lavoro 2 catenelle entro nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta 2 catenelle una maglia alta salto questa maglia entro nella maglia successiva il lavoro di nuovo una maglia alta 2 catenelle una maglia alta vado nella maglia successiva il lavoro una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta lavoro le 2 catenelle di separazione e vado a lavorare il prossimo angolo come vi ho fatto vedere qui quindi mi ritrovo le cinque maglie alte e vado a lavorare cinque maglie alte chiuse insieme quindi 1 2 3 4 e 5 chiudo tutto insieme lavoro 2 catenelle entro nello spazio di 2 catenelle lì vado a lavorare cinque maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 lavoro 2 catenelle di separazione mi ritrovo le cinque maglie alte li vado a lavorare cinque maglie alte chiuse insieme quindi 1 2 3 4 e 5 e poi chiudo tutto insieme di nuovo 2 catenelle entro nella prima maglia e lavoro un punto v quindi lavoro una maglia alta 2 catenelle una maglia alta salto la maglia successiva entro nella maglia nella prossima maglia e lavoro una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta nell'ultima maglia di nuovo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta lavoro di nuovo 2 catenelle e mi ritrovo di nuovo le cinque maglie alte quindi li vado a lavorare di nuovo 5 maglie alte chiuse insieme quindi 2 3 4 e 5 poi chiudo tutto insieme lavoro 2 catenelle entro nello spazio di 2 catenelle li lavoro le cinque maglie alte 1 2 3 4 e 5 lavoro le 2 catenelle e mi ritrovo di nuovo le cinque maglie alte e quindi chiudiamo le cinque maglie alte chiuse insieme quindi 1 2 3 4 e 5 un attimo quindi 3 4 e 5 e chiudo tutto insieme avvio 2 catenelle e così termina il giro in questo modo una volta terminato l'ultimo angolo avvio 2 catenelle e vado a lavorare nella prima maglia alta una maglia alta 2 catenelle e nello stesso punto una maglia alta e mi chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella in questo modo abbiamo terminato il giro il lavoro si presenta in questo modo ora vi faccio vedere come procedere con la nostra mattonella quindi una volta terminato il nostro disegno procediamo in questo modo avvio 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta lavoro una catenella di separazione e filo sull'uncinetto entro nello spazio tra un punto v e l'altro quindi qui entro qui e lavoro 3 maglie alte e lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 di nuovo una catenella salto il punto v entro qui nello spazio di 2 catenella di 2 catenelle e li lavoro 3 maglie alte ecco qui in questo modo lavoro di nuovo una catenella di separazione entro qui quindi salto le 5 maglie alte chiuse insieme entro qui e lavoro di nuovo il gruppetto di 3 maglie alte lavoro una catenella e mi ritrovo qui sulle 5 maglie alte salto la prima salto la seconda entro nella terza e li vado a lavorare 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle rientro nello stesso punto 3 maglie alte 1 2 e 3 in questo modo ci prepariamo per lavorare il punto grenni in modo che la nostra piastrella cresce sempre di più una volta fatto questo come procediamo lavoriamo di nuovo le 2 catenelle quindi mi ritrovo qui e vado a lavorare qui vado a lavorare le 3 maglie alte 1 2 e 3 di nuovo una catenella prossimo spazio qui 3 maglie alte 1 2 e 3 di nuovo una catenella prossimo spazio 3 maglie alte 1 2 e 3 una catenella salto il punto vi entro qui e lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 una catenella salto il punto vi entro qui al centro e lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 una catenella una catenella salto le 5 maglie alte insieme entro in questo spazio e lavoro 3 maglie alte di nuovo una catenella di nuovo una catenella salto le 2 maglie alte entro nella terza e vado a lavorare l'angolo quindi lavoro 3 maglie alte 2 il lavoro da fare fino al termine quindi vi faccio vedere una volta fatto l'angolo lavoro una catenella salto le 2 maglie alte entro qui nello spazio di 2 catenelle e lavoro appunto il gruppetto di 3 maglie alte lavoro una catenella la prossimo spazio 3 maglie alte una catenella salto il punto vi prossimo spazio 3 maglie alte una catenella una catenella salto il punto vi prossimo spazio di nuovo 3 maglie alte una catenella salto il punto vi prossimo spazio 3 maglie alte di nuovo una catenella salto le 5 maglie alte insieme entro in questo spazio lavoro il gruppetto di 3 maglie alte una catenella salto la prima e la seconda maglia entro nella terza e lavoro 3 maglie alte 2 catenelle rientro 3 maglie alte 1 2 e 3 ecco qua lavoro di nuovo 2 catenelle una catenella scusatemi sapere 2 maglie alte salto le due maglie alte entro in questo spazio lavoro il gruppetto di 3 maglie alte una catenella prossimo spazio 3 maglie alte una catenella salto il punto vi prossimo spazio 3 maglie alte una catenella sotto il punto v il prossimo spazio 3 maglie alte una catenella prossimo spazio 3 maglie alte una catenella salto le 5 maglie alte entrò nel prossimo spazio e lavoro il gruppetto di 3 maglie alte una catenella salto le 2 maglie alte entro nella terza e vado a lavorare l'angolo quindi lavoro 3 maglie alte 2 catenelle rientro 3 maglie alte 1 2 e 3 lavoro una catenella salto le due maglie alte entro in questo spazio il lavoro le 3 maglie alta una catenella prossimo spazio 3 maglie alta una catenella prossimo spazio 2 maglie alte la prima già è stata lavorata quindi entro nella terza e mi chiudo con una maglia bassissima e in questo modo abbiamo terminato il giro ecco qui quindi da questo giro in poi andremo a lavorare la classica lavorazione appunto granny che non sto qui a farvi vedere perché è semplice appunto da lavorare quindi noi cosa facciamo inizieremo direttamente qui nello spazio di una catenella quindi lavoro un punto bassissimo e da qui lavorerò 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta lavoro la seconda e la terza maglia alta una catenella nello spazio di una catenella lavorerò le 3 maglie alte una catenella prossimo spazio le 3 maglie alte quindi in questo modo lavoreremo la classica lavorazione appunto granny e andiamo avanti in questo modo finché non arriviamo alla grandezza desiderata questo poi dipende anche in base al progetto che uno vuole realizzare ci possiamo fare un centrino ci possiamo fare un cuscino ci possiamo realizzare una maglia possiamo fare di tutto quindi una volta arrivati nell'angolo lavoro una catenella entro nello spazio di 2 catenelle lì appunto vado a lavorare l'angolo composto da 3 maglie alta 2 catenelle e 3 maglie alte ecco qui lavoro come sempre una catenella di separazione e procedo lavorando in questo modo con la classica lavorazione appunto granny ecco qui e questo sarà il nostro lavoro poi vi lascio appunto la foto nell'anteprima del video il tutorial è terminato io spero che vi sia piaciuto se così vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video tutorial ciao